Catania si conferma terra di conquista per il Foggia che sbanca il Massimino per la terza volta di fila e lancia un segnale forte al campionato per la Serie Ci Siamo Anche Noi. Eppure la serata non era cominciata nel migliore dei modi. Cudini, già in emergenza in prima linea, perde nella fase di riscaldamento Rizzo sostituito da Salines. Il tecnico torna al 4-3-1-2 con per alta trequartista e Tonine Dembalo davanti. Schenetti parte dalla panchina. Turnover anche per Tabbiani che rinuncia in avvio a Di Carmine e schiera Chiricò, Sarau e Bocic nel tridente. Il Catania prova a partire forte, sospinto dai 18.000 del Massimino. Al 14-1 degli ex Rocca servito da Castellini a provarci con un rasoterra sul quale Nobile è attento e mette in angolo. Due minuti più tardi, percussione di Bocic, palla sull'esterno della rete. Il Foggia si vede al 17-1, tentativo di per alta e pallone sul fondo. Nuovo brivido nell'area del Foggia al minuto 19. Chiricò Pennella, nobile e incerto nella presa e si scontra con Marzupio. La difesa rosso-nera allontana poi la minaccia. In avvio di ripresa ci prova subito Di Noia che dalla distanza calcia sul fondo. 52-1 Tonin apparecchia ancora per la conclusione del centrocampista Di Noia, parata in due tempi da Betters. Cudini, che nel frattempo ha perso anche Garattoni per infortunio, è costretto a rinunciare anche a Marzupio che si fa male in uno scontro con Ladinetti. È il momento di maggior pressione del Catania che prova ad alzare i giri e sfiora la marcatura con una velenosa conclusione di Chiricò che c'entra in pieno la traversa. 71esimo cross di Marsura e colpo di testa debole ancora di Chiricò, nobile, para. Passano un paio di minuti e il Foggia trova il gol del vantaggio e Marino con una gran conclusione dalla distanza a mettere nell'angolino e a portare i rosso-neri in vantaggio. Primo centro in maglia rosso-nera per il centrocampista Scuola Lazio che l'anno scorso era all'Andria. Il Foggia stringe i denti nel finale, nobile, ancora sugli scudi all'ottantaquattresimo, punizione del solito Chiricò e salvataggio del portiere in calcio d'angolo. I rosso-neri rischiano ancora all'ottantaseiesimo, sinistro del solito Chiricò respinto da nobile. De Luca prova a ribadire in rete ma è pizzicato in posizione di fuorigioco. All'ottantanomesimo il Foggia sciupa un'ottima ripartenza. Tonin vede il subentrato Schenetti, tardi, che si arrabbia e non poco e non le manda a dire al compagno. L'arbitro accorda sei minuti di recupero al novantaduesimo e Castellini a provarci dalla distanza. Brivido per nobile, palla fuori di un soffio. Novantaquattresimo, tentativo di Chiricò, sempre nobile, ci mette i guantoni, poi da fuori ci prova Rocca. Conclusione respinta dalla difesa rossonera. Al novantaquattresimo, ad un passo dal triplice fischio, il Foggia chiude i giochi. Curado e Betters pasticciano, ne approfitta Tonin che supera il portiere in uscita e deposita in rete per il definitivo 2-0, che consegna al Foggia il primo successo esterno e lancia i rossoneri, imbattuti e senza gol subiti da quattro gare, tra le prime della classe.